c'era un bel sole nel cielo un sole che sorgeva e poi tramontava un sole caldo e luminoso un sole di primavera e c'era una tartaruga una bella tartaruga che sonnecchiava placida e tranquilla però che noia la tartaruga si annoiava e voleva trovare qualcosa di nuovo da fare allora fece un piccolo movimento e poi un altro e un altro ancora poi si spostò un poco per vedere se più in là ci fosse qualcosa di nuovo da fare nulla allora si girò e provò a spostarsi nell'altra direzione nulla uffa uffa non c'è proprio niente di nuovo da fare su questa terra è sempre la solita storia l'erbetta su cui zampettare qualche animaletto da salutare ciao coniglietto ciao leprotto ciao scogliattolino ma poi non succede mai niente che possa entusiasmarmi appena pronunciate queste parole la tartaruga sentì un suono sopra di sé ma che cos'era non capiva aspettò ferma immobile e di nuovo sentì quel suono ma dov'era aspettò ferma immobile ancora un poco e di nuovo sentì quel suono ma certo era un'aquila un'aquila che volava altissima sopra la sua testa oh che bella ma è bellissima e come volante libera nel cielo ecco ecco cosa potrei fare potrei imparare a volare la tartaruga iniziò a chiamare forte forte l'aquila sperando che riuscisse a sentirla ehi lassù ehi mi senti sono qui sono proprio sotto di te guardami sono qui sotto mi vedi aquila e aquila sono qui l'aquila vedendo la tartaruga iniziò a planare a scendere verso di lei poi si fermò lì proprio davanti alla tartaruga ma certo che ti vedo ma cosa credi io sono un'aquila e come sai l'aquila alla vista d'aquila io vedo lontanissimo disse l'aquila oh che bello che bello che tu sia qui sono proprio felice ma dimmi come fai come fai a volare così in alto chiese in curiosità la tartaruga ma non saprei in realtà mi viene naturale essendo un'aquila mi sembra ovvio che io sappia volare rispose l'aquila appunto volare tu sai volare e visto che sai volare potresti insegnarmelo anche a me a volare intendo sai mi annoio così tanto mi piacerebbe imparare a volare mi insegni e dai insegnami insegnami a volare chiese la tartaruga forse per te le cose non sono molto chiare per volare ci vogliono le ali insomma bisogna essere un uccello essere leggeri come una piuma e tu non mi sembri molto leggera rispose dubbiosa l'aquila ma cosa dici io posso essere leggerissima sai ti sembro pesante ma è solo apparenza e poi guarda che zampe grandi che ho non vorrai dirmi che incontro le zampe così non riuscirei a volare dai lo dici solo perché non vuoi insegnarmelo ma sei sicura davvero vorresti imparare a volare oh se mi piacerebbe mi piacerebbe tanto dai insegnami insegnami a volare l'aquila non sapeva cosa rispondere anche perché non aveva mai visto una tartaruga volante non sapeva se potesse esistere ma secondo me non è possibile farti volare ma se proprio insisti possiamo provare la tartaruga presa da un grande entusiasmo rispose se ti prego per favore ti sopplico insegnami a volare e va bene mi hai convinta allora facciamo così ti insegnerò a volare nello stesso modo in cui mi ha insegnato la mia mamma e cioè come? chiese subito la tartaruga è molto semplice io ti prenderò e ti porterò in alto nel cielo e poi ti lascerò andare e tu dovrai muovere le zampe e restare in aria facile no? la tartaruga non stava più nel guscio dall'entusiasmo sì facilissimo dai facciamolo facciamolo dai io sono pronta e così l'aquila prese la tartaruga la sollevò e la portò in alto in alto nel cielo oh mamma mia che bello che bello vedere tutto da quassù ma è bellissimo è bellissimo allora sei pronta adesso ti lascerò andare per cui preparati a volare al mio tre uno due e tre al tre l'aquila lascia andare la tartaruga e la tartaruga iniziò a cadere a cadere a cadere e per quanto provasse ad agitare le zampe non riusciva a volare neanche un poco e iniziò a spaventarsi ehi 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 ma che succede ehi non riesco a volare aiuto aquila aiuto sto precipitando aiutami presto non so proprio come fare aiuto allora l'aquila vedendo che per la tartaruga era davvero impossibile volare scese veloce impicchiata e la ciuffò proprio prima che cadesse a terra poi con grande grazia la depose sul pratecello verde hai visto te l'avevo detto che non potevi volare insomma sei una tartaruga ma cosa ti è saltato in mente per poco non ti spiaccicavi le disse l'aquila un poco severa e un poco simpatica sì adesso lo so hai ragione sono una tartaruga non posso volare pazienza è che mi annoio capisci e devo dire che quando mi hai portato in alto nel cielo è stato bellissimo la tartaruga era un poco triste ma anche felice di aver provato una cosa così bella ma dai ma se solo per questo non c'è problema adesso che ci conosciamo siamo diventati amici ti porterò con me per volare insieme tutte le volte che vorrai ma tu in cambio mi dovrai insegnare qualcosa che io non riesco a fare la tartaruga la guardò e davvero non capiva che cosa mai avrebbe potuto insegnare a un'aquila che sapeva volare così bene e che cosa mai ti potrai insegnare le chiese un poco intimidita potresti insegnarmi a sonnecchiare io sono agitata e agitata come sono non riesco proprio a farlo oh vabbè è proprio vero a sonnecchiare sono una vera maestra anzi se vuoi iniziamo subito vieni qui vicino 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 a me e succhiudi gli occhi e così la tartaruga che non sapeva volare insegnò all'aquila a sonnecchiare e lo fece così bene che si addormentarono subito subito al calore del tiepido sole